La felicità è fatica, ma non bisogna digerare, noi adesso chiudiamo, visto che c'è questo cambio immenso e voi potete invece vogliarvi il film, specialmente, cioè tutto il film specialmente, queste scene che vengono da voi, da vostri collaboratori e in primavera. Io ve lo solo direi questo, se loro si sono, diciamo, intimiditi perché si sono visti sullo schermo di Milano, vorremmo comunicarti che a settembre avevano una su Skype, per la cosa si aggrava. Grazie a tutti.